Siamo qui alla Milan Marathon per ricordare appunto con la grande casa non soltanto il 25 novembre. Questa è una cosa che ho fatto la campagna a novembre appunto per sensibilizzare le persone, ricordare insomma le violenze, esistono tutti i giorni purtroppo. Speriamo che possa migliorare, come possa migliorare la performance sportiva, appunto per questo siamo qui per ricordarlo. Ho fatto uno scatto insieme a mia figlia perché non è mai presto per far capire certi valori. Oggi c'è una maratona, però spesso uno dice che questo è uno sport individuale, oggi lo trasformiamo in una, c'è scritto proprio relay, staffetta. E ho scoperto soltanto oggi, ahimè, mi sono dovuto acculturare, che c'è una prima frazione che fa 13, poi una di 10, una da 7 e l'ultima immagino ancora da 10. Bisogna essere molto preparati, lo sport ti insegna a essere preparato, quindi un grande bocca al lupo a chi fa la maratona ma soprattutto chi ci metterà il cuore come noi oggi.